Buonasera, vivere meglio, aiutiamo, aiuteremo le persone a vivere meglio, stasera con degli ospiti illustrissimi, con un ospite in più del solito, li vado a presentare subito, lei è Cristina Incorvaia, un applauso glielo faccio io, personaggio televisivo, ha lavorato a uomini e donne, ma è anche un assistente a un laboratorio ortopedico, quindi c'entra molto anche con lo sport, specialmente lo sport, lo sci ad esempio, e non per altro abbiamo qui Lara Magoni, grazie Lara per essere qua con noi, segretario, spiegami Lara, fai il segretario, spiegamelo tu. Sottosegretario, con delle sport giovani di Regione Lombardia. Ecco, quindi che ruolo hai in Regione Lombardia esattamente? Spiega, perché noi, sottosegretario in Regione, io sono ignorante, non ci capisco, hai un ruolo importante in questo caso perché lavori in Regione. Naturalmente sono onorata di rappresentare per Regione Lombardia lo sport, lo sport che rappresenta 48 federazioni, 500 discipline sportive, 25 mila società sportive in Lombardia e che presenta un presidente, per cui è un onore per me rappresentare lo sport, ma soprattutto i giovani. Il percorso dei giovani è legato all'inclusione, all'aggregazione, naturalmente attraverso le sport e tutto quello che può generare, diciamo, un percorso di bene, di bene condiviso e di crescita uomini e donne che diventino veramente cittadini responsabili. Di categoria, di serie A. Grazie a loro per essere qua con noi stasera, poi abbiamo Stefania Siglitti con la nostra personal trailer che stasera, dopo un mese, tornate a trovarci perché abbiamo fatto partire questa challenge dove Laura, questa neomamma, un mese fa voleva rimettersi in forma, hai lavorato con lei per un mese e vedremo dopo appunto i risultati. So che è bravissima, ho già visto le immagini in anteprima e devo farti veramente i complimenti. E poi lui, l'unico uomo in mezzo a tre donne, è Alessandro Cardi, presidente della Bustese Olonia, società sportiva ciclistica. Che cosa rappresenta questa società? È una società che dal 1919 sforna corridori, ha avuto tantissimi campioni e io ho voluto noi, tutti quanti, abbiamo voluto tenerla in piedi perché per dare la possibilità ai giovani di esprimersi in questo sport. Quindi categorie molto giovani come risordienti, allievi e juniores che cerchiamo di far crescere nel modo giusto attraverso uno sport che è uno sport di fatica ma che però è uno sport che insegna a vivere. Che è anche pieno di pericoli, parleremo poi appunto anche con Laura Magoni perché fare ciclista specialmente da giovani adesso è diventato sempre più complicato un po' per le difficoltà ma anche perché la cultura del ciclista e dell'automobilista col ciclista per strada, insomma dovremmo un attimino andarla un po' a limare, giusto? Ecco allora prima però di partire con queste argomentazioni che sono importanti perché giovani sport ne abbiamo veramente da mettere sul piatto questa sera tantissimo, torno al mio cartello che ho qui dove c'è scritto bullismo perché questa sera se vi ricordate chi ci ha seguito la settimana scorsa abbiamo un ospite speciale e allora io farei un applauso ad Atena che in verità si chiama Francesca, ma Atena è il nome d'arte perché è questa ragazza che stasera ci fa una grande sorpresa e ci canterà la sua canzone stupenda viene a te questa sera io non dormo non ho il coraggio di dirle ai miei questa sera non ho torto in qualche modo io dovrò sfogarmi per non aumentare i danni domani non ho voglia di tornare la scuola mi fa male provaci tu a sorvegli non sentirmi all'altezza dei compagni anche se ho pochi anni ora non resisto più io sono come noi io sono come voi Io sono come gli altri, sempre riparte di questi anni, io sono come voi, io sono come voi, io sono come gli altri, sempre riparte di questi anni. Oh, vorrei scappare altrove, ma dimmi come faccio a star così, forse la soluzione migliore è affrontare sempre a testa alta, tu mi offendi, io sto sempre a calare. Mania troppo forza per tornare, tu non mi puoi far male, proverò io a decidere, se tu apprezzassi ogni mio singolo dettaglio, e non ti soffermassi ad uno sbaglio, fino a di non sarebbe così, perché... Io sono come voi, io sono come voi, io sono come gli altri, sempre riparte di questi anni. Io sono come voi, io sono come voi, io sono come gli altri, sempre riparte di questi anni. Io sono come voi, 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 io sono come voi. Io sono come voi, 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 io sono come voi. Io sono come voi, io sono come gli altri, tra i miei difetti di questi anni. Io sono come voi, io sono come voi, io sono come gli altri, tra i miei difetti di questi anni. Io sono come voi, io sono come gli altri, tra i miei difetti di questi anni. Perché l'abbiamo già sentito. Come hai risolto il tuo problema, non raccontiamo le cose brutte, ma quelle belle. Come hai risolto il tuo problema con il bullismo e con le persone che chiaramente ti hanno trattato male? Allora, inizialmente ne ho parlato con mia mamma, poi ho intrapreso un percorso psicologico. E per finire, diciamo, per sfogarmi ho iniziato a scrivere canzoni, a cantare ed è stata la mia liberazione. Perché questo è un tuo pezzo scritto da te. Esatto. Quindi sei una cantautrice o cantautore. Si dice cantautrice o cantautore? Sai che è questa cosa? Come senatrice o senatore? Come si dice? Senatore. Senatore al maschile. Dipende, poi ognuno di noi la vede in modo diverso. Allora, io ai tempi Tina Lagostena Bassi diceva che lei era avvocata. Quindi magari sei un'attrice, tu sei cantautrice o cantautore? Sì, cantautrice. Canto autrice. Bravissima. Senti, allora, intanto ti faccio i complimenti da parte di tutte le persone che ti seguono perché sei stata coraggiosissima, sei riuscita a tirarti fuori, sei riuscita a prendere questo percorso, a intraprendere questo percorso meraviglioso. E appunto perché sei stata brava, vogliamo premiare il tuo coraggio con un presente che ti offre la Regione Lombardia tramite Lara Magoni. Questo qui è il presente che ci spiegherà Lara che cos'è esattamente. Piacere e complimenti Francesca. Un piccolo dono da parte di Degenerazione Lombardia che è il nostro gruppo di lavoro in Regione Lombardia che rappresenta i giovani lombardi. Io vorrei dire qua davanti a tutti i telespettatori, grazie naturalmente Marco per questa bella serata e gli ospiti che sono presenti con me. Io non sono mamma, però ti ho sentito cantare e mi hai emozionata. Poi siccome non so la tua storia ma so che hai superato un percorso, sono ancora più emozionata perché da campionessa devo dirti che i campioni non sono quelli solo che prendono le medaglie sui campi da sci o sulla bicicletta in un campo da tennis o di calcio, ma i campioni nella vita sono quelli che sono in grado di rialzarsi e ricominciare a camminare. I campioni sono quelli come te che buttano alle spalle le cattiverie, i soprusi e scelgono di vivere perché la vita è meravigliosa e tu Atena hai dato un esempio bellissimo di quello che possiamo fare, che si può fare, che ognuno e due può fare perché dentro di te c'è una campionessa. Grazie mille. Complimenti. Grazie. Mi hai fatto emozionare, mi avete fatto emozionare e torno al mio posto. Grazie. Ecco, grazie, guarda Francesca, grazie, grazie Lara, sei stata veramente, ti do un altro bacio. Domani vai a scuola, ok, allora ti facciamo uscire da quella parte lì, poi dopo vai via con i tuoi genitori. Grazie, ogni tanto fatti sentire ancora da noi, che noi siamo qua per te. Abbiamo dedicato la scorsa puntata appunto al bullismo, quest'anno in questa puntata cambiamo un attimino l'argomento, però teniamo sempre presente questa cosa, che i ragazzi sono il nostro futuro e quindi tu hai dato un grande esempio. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a Francesca. In Arte Atena, la nostra cantautrice e andiamo a parlare sempre di giovani, ma abbiamo un giovane, un giovane fortissimo, che in questi giorni lo abbiamo visto giocare a tennis in una maniera incredibile. Lui è Sinner, vorrei far vedere appunto questa immagine di Sinner, Yannick Sinner, che è veramente uno dei tennisti, forse direi il tennista più forte di tutti i tempi italiano, direi. Lara, secondo te Sinner è il più forte tennista di tutti i tempi o Panatta e Pietrangeli hanno fatto qualcosina in più? Beh, in assoluto sì, però. Ma ogni epoca hai il suo campione, per cui oggi si parla di Sinner, ieri c'erano altri campioni, cioè nel senso è un percorso. Oggi abbiamo questo ragazzo così giovane, che a me ha stupito come sportiva per la capacità di presentarsi al pubblico, per la sua semplicità, per la capacità di dimostrare che è un campione, è colui che dentro di sé ha voglia di emergere. Le sue interviste da sportiva naturalmente mi regalano un'energia incredibile, perché lui dice mi sveglio la mattina e mi alleno perché voglio vincere. E quando lui parla così, pur essendo io oggi una vecchia gallina che ha smesso da un'eternità di fare sport, quando sento lui riprovo quei brividi che avevo cancellato di partenza. Quindi io penso che ognuno di noi nel suo percorso di vita può fare qualsiasi tipo di percorso, non è importante fare sport, ma quando ci si alza la mattina, si mettono i piedi fuori dal letto e si ha un sogno da raggiungere, io penso che la vita diventa fantastica. Ecco, la mia domanda, che vuole essere un po' la domanda di tutta la puntata è, ma può una persona come è stata ai tempi Tomba, come è stato Valentino Rossi e come potrebbe essere magari Sinner, può veramente smuovere non solo il movimento tennistico, ma smuovere l'Italia in tutti i sensi? No, ci ricordiamo di Tomba che quando a un certo punto doveva fare la seconda manche dello slano speciale si fermò Sanremo, durante mi sembra le Olimpiadi, non mi ricordo esattamente se era l'Olimpiadi, ho campiato nel mondo, si fermò l'Italia intera, con Sinner potremmo riuscire a fare come è successo con Tomba? Non sta già dimostrando perché gli ascolti che ha avuto in televisione sono stati uno share altissimo e dimostra quindi l'attenzione e io sono convinta che il grande evento, il grande campione, campionessa, sono in grado di trascinare assolutamente i nostri figli e figlie a fare più sport, perché è inevitabile dopo qualsiasi grande evento sportivo abbiamo sempre una crescita nelle discipline che in quel momento si ritrovano con dei campioni italiani, sicuramente stimola ad avvicinare la disciplina. Abbiamo un po' di pubblicità adesso, quando torniamo dalla pubblicità vi voglio far vedere delle immagini stupende, un po' di pubblicità, ci vediamo troppo pochissimo. La neve è dalla sua. 8 interventi chirurgici al testine d'Achille per Lara Vagoni che non ha mai mollato però ed è ritornata sempre in pista. Cura azzurra al comando, Lara Vagoni, alza le braccia al cielo, guardate la felicità, salda, si butta il suolo, è un momento di trionfo per Lara Vagoni. Dopo tanti anni di dolori, di sofferenze, di... Bambana Ancellino e Bambana Antonio saranno... La migliore delle azurre... Bravissima Lara, bene anche qua, molto precisa, bel lavoro di ginocchia qui nel finale per Lara Vagoni che va a chiudere nettamente avanti. Quanto è andata vicino alla vittoria Lara Vagoni oggi, comunque non si può regginare più di tanto. Stazioni eccezionali per lei in Coppa del Mondo, un secondo posto a Lax, un terzo a Maribor, forza, forza Lara mentre vedete inquadrata la madre della finestrella che il nostro regista ci ha proposto. Eccola, ecco Lara. Eccola, Lara! Eccola, ecco Lara. La Vagoni la ricetta per vincere l'imparata quest'anno, in tanti ormai conoscono la sua storia. Eccola nella prima Marti Oggi, a coronamento di dieci anni in Coppa del Mondo, un po' tra i pari dello slalom e un po' nelle sale operatorie degli ospedali, dove le rimettevano in sesto le articolazioni che saltavano. 33, 34, 35, 77! Lara Vagoni ha vinto! Vorrei poter tornare bambina, stretta fra le tue braccia e mentre mi accaressi i capelli sentirsi sussurrare. Va tutto bene! Lara Vagoni, brava! Ti sei emozionata a guardare queste immagini? Ma guarda che tu hai fatto, hai veramente anche tu come sinner, come tomba, hai fatto veramente emozionare tantissimi italiani. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. La spalla, il naso, gli zigomi, infatti il naso è da cucina. Nessuno mai come te nella storia dello sci, probabilmente. Ma forse così tanti no. Così tanti no, però la tua forza è stata quella che non hai mai mollata e questa è una cosa grandiosa. Devo dire che da questo punto di vista i ciclisti si avvicinano un po', no? Perché poverina, appena vanno per terra, eh Sandro? Appena vanno per terra e si fanno male i ragazzi, eh? Basta una caduta e... Però il ciclismo forma i ragazzi in una maniera un po' più, no? Perché appunto si fa tanta fatica. Il ciclismo è uno sport di durata ma molto intenso anche nell'allenamento. L'allenamento porta a fare sacrifici perché comunque i ragazzi devono fare sacrifici per raggiungere un certo obiettivo e per raggiungere questo obiettivo comunque devono lottare anche nel modo giusto, con la cattiveria sportiva che è giusto che ci sia sempre. Perché sono insegnamenti di vita che poi servono anche nella vita di tutti i giorni per capire cosa vuol dire raggiungere un obiettivo, lo scopo della vita piuttosto che di altre cose. Se uno non fa fatica o comunque non ci mette l'impegno necessario non potrà raggiungere l'obiettivo che vorrebbe raggiungere. Ecco Stefania, tu hai quotidianamente delle persone che vengono da te in palestra e anche loro chiaramente si pongono degli obiettivi relativi, no? Però i risultati ci sono non solamente con i giovani ma anche con le persone un po' più grandi, no? Immagina. Anzi sempre di più perché poi subentrano i problemi, articolazioni, ginocchia, schiena, andando avanti con l'età se non ti alleni comunque lo senti. Quindi facciamo anche allenamenti proprio per sostegno muscolare, per stare bene insomma. Quindi non solo fisico ma proprio per la salute, non solo per l'aspetto esteriore. Quindi sì assolutamente. Ecco quindi tornando, diciamo che tornando un pochettino a parlare di giovani, lo sport aiuta i ragazzi a crearsi dei traguardi, a crearsi degli obiettivi e potrebbe aiutare anche a risolvere tanti problemi. Abbiamo parlato di bullismo e tante altre cose che ne sono successe. Sappiamo in questi giorni purtroppo, non voglio attaccarmi a quel discorso bruttissimo, però i ragazzi hanno bisogno di raggiungere un po' più di obiettivi. Chi fa sport ce l'ha, ma fanno sport i ragazzi in generale? Fanno sport secondo te? Ma penso che ultimamente sì ne facciano abbastanza, ma forse neanche quanto dovrebbero. Perché se si dedicassero realmente più allo sport, dedicherebbero meno tempo ai social, quindi con questi telefoni in mano che creano dipendenze, che creano problemi di ogni genere. E tu tutti i giorni però ti vedo sui social che fai la tua storia, racconti... Io ci sto soltanto in quei momenti, ma proprio perché devo farlo per i miei fan, i miei follower famosi che per causa di forza maggiore, avendo fatto dei programmi televisivi, mi seguono e se dovessi mai scomparire per qualche giorno mi scrivono e mi chiedono ma che fine hai fatto. Però lo so usare con la testa, sono moderata, insomma, non sto ore e ore al telefono perché io penso che le persone che stanno tanto sui social sono persone insicure, ma vanno ad aggravare questa insicurezza ad abbassare la loro autostima. Più stanno sui social è un circolo vizioso, quindi col tempo magari soffriranno di stress arrivando anche magari a depressioni. Questo secondo me è anche stato provato, insomma, constatato. Quindi dovrebbero dedicarsi molto più allo sport e lasciare un po' da parte anche questi social. Dedicarsi molto più allo sport. Lara, ma questi ragazzi si dedicano, non si dedicano tanto allo sport. Adesso, a parte il sinner che sembra quasi una cosa strana, però ai tempi di tomba, ai tempi di Pantani, ai tempi di Vambasso, ai tempi di, diciamo, gli anni 90. Ecco, gli anni 90 sono stati gli ultimi anni che hanno sfornato dei grandi campioni. Perché adesso non ne vengono più fuori così? Però è più difficile. Sai cosa, Marco? Io invece non sono per nulla nostalgica. Io ritengo che i nostri giovani siano meravigliosi. Sono talentuosi, sono creativi. È colpa nostra se tanti di loro si perdono. Questo fatto che anche noi stessi, come tu dici, gli anni 90. Per me oggi sono ancora più ganzi. Per me oggi vedo i nostri giovani che sono incredibili. Nel mio ufficio, la regione Lombardia, nel mandato precedente, avevo sei ragazzi su otto persone che mi aiutavano. Sei sotto i 30 anni. Io ho voluto averli al mio fianco per regalare loro quelle ali per volare nel mondo. Se la Ramagone, quando era bambina, non avesse incontrato quelle persone che hanno dato in quel momento i soldi a mio padre per far sì che io potessi sciare, non sarebbe diventata né una campionessa e né oggi potrei ricoprire questo ruolo importante del quale mi occupo. Quindi io penso che nella vita bisogna incontrare in quel momento, ho la pelle di gallina a dirvelo, mi emoziona a dirvelo, ma io sono stata affortunata perché a soli 10 anni è passato un signore che disse a mio padre, che ero muratore e mia mamma una cameriera che poi fecero un albergo, siamo commercianti, disse alla papà, ma quella bambina chi è? E papà disse a mia figlia e fa, ma fa le gare, sì ne fa un po' ma non possiamo andare dappertutto perché ci mancano i soldi. E quel signore diede tanti tanti soldi a mio padre. Quel signore è morto pochi anni fa, col covid, aveva più di 90 anni, 92 anni, Giancarlo si chiamava e io sono riconoscente a questo piccolo grande uomo perché ha piccolistatura che vide in me questo talento. Per cui anche nella vita ci vuole un po' di fortuna e io oggi in questo ruolo voglio essere, anche se io posso regalare il sorriso a un ragazzo o una ragazza al giorno, questa è la mia mission, riportare in vita, riportare sulla strada, dargli un'opportunità a quei figli, non tutti quei figli, a quei figli e figlie che vengono tra parentesi o abbandonati o trascurati o che sbagliano strada. Io mi voglio occupare di loro perché quelli bravi che vanno a scuola, oh che bella la mia bambina come è bella, no non mi interessano, a me piacciono quelli che oggi hanno bisogno di prendersi per mano, come fecero con me? Io non ero vittima di bullismo, però se quel signor non dava il suo dire mio padre io non potevo finire nel mondo, fare 16 anni in nazionale, 5 mondiali, 3 olimpiadi, diventare un personaggio famoso, avere dei soldi e oggi essere qua. Allora possiamo mettere un punto fermo allora su questa cosa perché a me sembra alle volte di intuire che allora la comunicazione sia un po' sbagliata, la televisione racconta, noi qua facciamo un programma che si chiama Vivere Meglio e io ho sempre voluto impostarlo in maniera molto propositiva e ottimistica e quindi poter creare un discorso, un dialogo con gli ospiti costruttivo dove si possa andare anche a raggiungere degli obiettivi, qua abbiamo scritto ad esempio l'altra settimana con il bullismo 7 punti da proporre alle famiglie per riuscire chiaramente ad ascoltare meglio i ragazzi e cercare di gestirli nel migliore dei modi, però è vero anche che tutto il resto della televisione, le televisioni nazionali parlano solamente di disastri, di tragedie e la percezione delle persone è proprio quella che i ragazzi non sono come li descrivi tu, ma tu fortunatamente ci stai dicendo che invece non è così, i ragazzi sono tutti bravi tranne qualcuno, ma la percezione televisiva delle reti nazionali ci dice che è un gran disastro, è giusto? I media hanno una grande responsabilità, scusatemi, mi spiace che i reti nazionali non ne parlino, sono responsabili delle porcherie che la gente vive, creano paura, creano ritiro sociale, creano tutte quelle conseguenze brutte che stanno creando, la morbosità su ogni morte di una creatura, ma si può lucrare sulla morte della gente? Scusatemi la parola ma devo dire mi fa schifo, io voglio che la gente parli della bellezza dei nostri figli, io purtroppo sono orfana, vedova e non ho figli, ma sono una donna felice, quella bimba di prima, che la chiamo bimba perché io sono innamorata tutte le volte che incontro i ragazzi, io li abbraccio e vorrei dargli quel podio che ho fatto nella mia vita, ma quel podio in senso quella gioia, quell'entusiasmo che li accompagni, non puoi alzarti la mattina a santo cielo e pensare di essere nel Vietnam, che sei in guerra, devi prendere il fucile per difenderti e c'è il lupo e c'è l'orso e c'è il delinquente, c'è quell'altro col coltello e quello con la bottiglia e un attimo signori, stiamo creando la gente la fobia della paura, è vero, è vero, c'è un problema, però adesso con calma, con calma. Ma purtroppo dati alla mano dimostrano che comunque le cose peggiorano da questo punto di vista, peggiora il bullismo, il cyberbullismo. Sì, però il dato la mano perché te lo raccontano così anche. Esatto, però se noi fomentassimo, se noi invece facessimo l'effetto domino dicendo che i nostri figli comunque sono ganzi, si mettono in gioco, muoiono a fare il pony pizza perché sono stanchi le 11 di sera per 3 euro all'ora. Cos'è il pony pizza? Non i pony pizza, è quelli che vanno a fare... Ah, ok. No, nel senso, chiedo scusa, nel senso, cioè io è morto un ragazzino di 21 anni, 22, qualche giorno fa, mentre portava le pizze. Ecco, lui mi incazzo, quella è una vittima. È una vittima perché dico... No, non arrabbiarti. No, non va bene. Non si dicono le parole. Mi arrabbio, no, nel senso, mi arrabbio, sì, mi accaloro perché penso che non vada bene. Ci sono anche questi ragazzi che lavorano. Brava, mi piace, ma tu sei una politica fantastica. No. 335-77-99-299, se volete scriverci dei messaggi su WhatsApp risponderemo ai vostri messaggi o anche delle telefonate. Le telefonate le abbiamo otto, no, abbiamo anche le telefonate, 0243433434. Pubblicità, ci vediamo altro pochissimo. Vivere meglio, si è animata la discussione parlando di giovani perché io adoro la grinta di Lara Magoni, non solo come sportiva ma come politica. Ci spieghi come sei finita a lavorare per noi, per i cittadini, perché tu sei il classico politico, che ce ne sono pochi, che lavora davvero in maniera molto diretta per il cittadino e per aiutare il cittadino a risolvere e a vivere meglio, appunto. Come sei finita? Io voglio parlare solo io perché sono... No, ma no, no, no. Allora, io loro gli ho detto, signora, abbiamo la rega Magoni, l'ascoltiamo perché ci insegnerà un sacco di cose. Non guffatemi, è donna. Sandro stesso, il presidente della Bustese Ologna, ci ascolta e ascolta te. Grazie, presidente. Perché tra poco ti chiederemo anche come si fa a gestire una società sportiva ed essere aiutato magari anche dallo Stato piuttosto che dalla regione in momenti di crisi perché bisogna ammettere che la crisi anche economica sta purtroppo un pochettino anche facendo morire tante società di ogni categoria e di ogni sport, questo sì. Ma veniamo alla prima domanda. Come è che sei capitata, sei finita a farla? Io innanzitutto premetto che sono, perché devo partire da qua, credo in Dio, ho una fede abbastanza importante che è cresciuta naturalmente e si è rafforzata durante la perda di mia mamma, di mio padre, di mio marito. Undici anni fa, come adesso a novembre, ero con mio marito qui a Milano mentre moriva di cancro all'Istituto Veneziano dei Tumori e mi chiamarono se davo il mio nome come quota rosa per la lista civica del presidente Maroni. E io ero con mio marito in ospedale e dissi no, a perché sono ignorante, ignoro la politica e b perché non mi interessa. Ero con mio marito quindi fissa in ospedale e lui mi disse ma Lara ma guarda che tu non devi preoccuparti, non farei mai politica, non sei all'altezza, vogliono solo il tuo nome perché sei famosa. E allora lei ti siano... Lei mi ha detto daglielo. Allora vabbè, diamogli il nome. Il destino ha voluto che mio marito, è importante questa cosa, è morto il 20 febbraio, io il 25 ero in regione Lombardia, la più votata a Bergamo. Non ho fatto campagna elettorale, nessuno sapeva che io fossi candidata. Se mio marito fosse morto il 26 nessuno mi avrebbe votata. Lui è morto il 20 febbraio, dopo due giorni si votava, io ero un personaggio famoso e come tutta la morbosità rispetto a quello che ci accade attorno, io in quel momento finì, non ho visto i giornali, l'ho visto dopo, finì su tutti i giornali, in televisione, Lara Magone ha perso i genitori, adesso ha perso anche il marito. Era la cosa da libro cuore e quindi io ho preso questo incarico e l'ho vissuto come regalo di mio marito. Mio marito aveva un'azienda di chimica e il mio primo incarico fu vicepresidente della commissione ambiente e protezione civile di regione Lombardia, quindi ambiente significava anche tutto quello del inquinamento e quant'altro e quindi ho dedicato il mio primo percorso a mio marito, ho studiato perché ero proprio ignorante, non sapevo niente e così anziché la notte svegliarmi a piangere, lo facevo comunque, ma ero costretta a studiare perché quando tu fai sport o hai un percorso di vita un po' particolare non avrei mai aperto un cancelletto senza essere allenata e non avrei mai potuto ricoprire un ruolo così importante da ignorante qual ero e quindi dicevo Roby non ho tempo di piangere per te, devo studiare perché io non posso... E ti sei messo a studiare, eri giovanissima, quanti ne avevi i tempi? No, no, io ho 54 anni. No, i tempi, non adesso, adesso non te li volevo neanche chiedere, quando hai iniziato a fare politica avevi messo da poco, vabbè insomma comunque... No, no, c'è 11 anni fa e quindi il percorso inizia solo per quello e io sono convinta che è stata l'ennesima opportunità che la mia famiglia mi ha regalato. E tu adesso però regali tante opportunità ai giovani in regione, perché se uno ti segue, se va a vedere ad esempio i tuoi social, a proposito di social, perché comunque è il metodo, è il mezzo per riuscire a raggiungere appunto anche i ragazzi, no? Comunque la comunicazione è fatta anche di questo. Ci sono tante, ma tantissime iniziative che altrimenti però non è che troviamo facilmente o le raccontano facilmente appunto gli altri media, come dicevamo prima, no? Cioè ci sono delle iniziative stupende, ci sono stati dei lavori che hai fatto in questi periodi, anche negli ultimi mesi, ogni giorno sei in giro, fai sempre qualche cosa e riesci però a portare sempre qualcosa di concreto, appunto perché il tuo animo competitivo e la tua voglia di riuscire a raggiungere il traguardo lo hai imparato anche facendo sport, no? Quindi a questi giovani riusciamo a convincerli, Sandro, che lo sport serve perché quando tu arrivi con la bicicletta in cima alla montagna, poi a quel punto fare il resto, studiare, mezzo libro di scuola, cosa vuoi che sia, no Sandro? Ma ti dirò, io ancora adesso ho contatti con ragazzi che sono passati nella nostra società, che sono diventati più grandi, alcuni hanno continuato qualche anno a correre, alcuni hanno smesso e poi si sono messi nel mondo del lavoro perché è così che si svolge la loro vita e devo dire che ultimamente ho incontrato un ragazzo che correva con noi, che ormai adesso lavora in un'azienda e è responsabile delle assunzioni di questa azienda e devo dire guarda io faccio colloqui con tante persone, ma quelli che hanno fatto sport, soprattutto ciclismo perché lui faceva ciclismo, sono i primi che prendo. Hanno un passo in più. Hanno un passo in più perché sanno che devono raggiungere quell'obiettivo e nello stesso tempo sono anche istruiti, nel senso che comunque non hanno tralasciato lo studio piuttosto che altre cose per dedicarsi esclusivamente allo sport. Lei l'ha fatto poi e ha studiato dopo, quindi devo dire complimenti a lei perché tenacia così è difficile avere, però vedo che i ragazzi che fanno sport e soprattutto sport impegnativo che è, io dico ciclismo perché sono nel ramo del ciclismo, danno una marcia in più. Io conosco ragazzi, uno ad esempio si è laureato a pieni voti, pur essendo arrivato, è arrivato anche al dilettante, il giro della Valdosta è stato tra i primi eccetera, adesso è un medico chirurgo. Tutti ragazzi che hanno fatto uno sport impegnativo e che gli ha dato le delusioni prima di raggiungere magari qualche risultato, perché anche quelle anzi sono le più importanti ancora delusioni sportive perché caricano ancora di più l'aspetto Io dico spesso, mi piace dirlo anche a mio figlio, specialmente nel ciclismo bisogna imparare a perdere perché non è che puoi vincere tutte le gare, sono in 100 ragazzi che corrono uno non può mai, mai è successo che un ragazzino abbia vinto tutte le gare alle quali ha partecipato e quindi chiaramente anche Michael Jordan, quanti tiri ha fatto a canestro ma la maggior parte li ha sbagliati, giusto? Quindi bisogna insegnare a perdere ragazzi nel ciclismo Poi sui 200 corridori che fanno la gara, se 199 non ci sono e vince uno, il primo che vince alza le mani da solo, non è una soddisfazione. Ci devono essere anche tutti gli altri che si danno battaglia, poi magari uno si ritira, uno arriva a ventesimo, uno arriva a cinquanteno ma ci sono ed è giusto considerarli nel modo giusto. Dal primo, infatti noi in società la mia direttiva, tutti i ragazzi che sia quello che vince e quello che non arriva, piuttosto che ha problemi, sono tutti trattati nello stesso modo perché anzi sono forse più contento vedere il ragazzo che magari ritirandosi la domenica dopo arriva in gruppo, perché ce l'ha messa tutta e è arrivato in gruppo e io vado a fare i complimenti a lui prima di qualcun altro che si è piazzato, perché? Perché è come fare una vittoria per lui e bisogna farglielo capire perché in quel modo capisce che comunque può arrivare oltre È un obiettivo relativo che inizia un percorso per riuscire e poi avvicinarsi alla vittoria Devo dire che tanti ragazzi li ho visti nel ciclismo fare questi percorsi, anche nella tua squadra Però la cosa che ti chiedo, ma sono tutti come te? A pensarla così in questo mondo, perché non è però così, eh? Io conosco tante persone, tante persone soprattutto nella nostra società sono tutti così Sì, nelle altre squadre, non dappertutto La cosa bella di questa società cos'è? Che oltre ad esserci gente come me che un po' di anni In più anche di te ce li abbiamo Ci sono anche ragazzi che hanno corso con noi che ci danno una mano Che alla domenica ci sono, che fanno il meccanico, che magari c'è chi si mette a fare il meccanico Per i quadri professionisti che quando sono liberi vengono da noi a dare una mano E sono felicissimi di farlo Vuol dire che abbiamo lasciato, e questa è la cosa che mi piace di più Un segno positivo Un buon ricordo Un buon ricordo, esatto Che li porterà nel loro futuro a tenere nella loro mente, nei loro ricordi Anche quelle situazioni che hanno passato nell'età più difficile Perché poi dai 13 anni ai 18 anni sono le età più difficili da passare Sia nello sport ma anche nella vita di tutti i giorni E quindi da questo punto di vista sono molto contento Ecco, ma nelle famiglie diciamo che ci dovrebbe essere questo spirito In tutte le famiglie, poi chiaramente purtroppo non c'è in tutte Però questo spirito all'interno di una famiglia dove si trova un ragazzino Che passa tutta la giornata o sui compiti oppure col telefonino in mano Perché comunque c'è nessuno Quello che dicevamo prima Come dicevamo prima Come facciamo a smuovere questi ragazzi, farli posare il telefono Anche se appunto abbiamo constatato che fortunatamente non è la maggioranza Delle famiglie, questo problema non è nella maggioranza delle famiglie Però comunque c'è Come facciamo a farli smollare questo telefonino Farli staccare dai giochi Perché comunque i ragazzini anche sui furgoni Quando vanno a fare le trasferte giocano con i telefonini Bisogna ammetterlo Come facciamo a convincerli di lasciare giù il telefonino Alzare dalla sedia o dalla poltrona Ma anche mentre mangiano ormai E poi farli Mi rispondono alcune mie amiche Io non sono mamma Non sono una ragazzina E delle mie amiche mi dicono Chris se non ha il telefonino non mangia Non mangia Prima o poi morirà mica di fame Prima o poi mangerà Ma va tolto Ti devi anche impuntare Ma purtroppo Lo fanno gli altri Lo fanno tutti E loro si sentono esclusi Se non lo fanno Per alcune è una comodità Metterlo lì tranquillo Sta tranquillo col telefono Sì ma questo è un altro discorso Magari quando escono con i figli Gli danno il telefono per farli stare zitti Per non farli fare magari caos in giro Ma non va bene Perché tu in questo modo Incentivi maggiormente ad usare il telefonino Quindi è proprio un atteggiamento sbagliato Ma potrà mai esserci È difficile toglierle questa brutta abitudine Perché ormai è diventata una brutta abitudine Come si fa a toglierle? Possiamo mai inventarci una regola Una legge Scriviamo una legge Questa è la società di oggi Che possa andare contro L'utilizzo del telefonino Magari E se educassimo i genitori Eh quello Eh io lì volevo arrivare Chiaramente Ma sai che poi mi arrabbio Non fatemi arrabbiare No no arrabbi Perché i nostri figli Sono meravigliosi Eh? Non ho capito I nostri figli sono meravigliosi Il problema sono i genitori Sì Che poi dicono lo Stato E il governo E la chiesa E la scuola E l'oratorio Danno la colpa a tutti Ma non a loro Ma tutto parla della famiglia Il problema non sono loro I genitori non sono mai un problema Poi che i genitori Facciano un lavoro difficile Io non sono un genitore E sicuramente è complesso Fare i genitori Una volta le donne Lavoravano meno Si ascoltassero Lavorano anche tutte le donne Mi stai indicando No infatti No volevo dire che infatti Adesso tra un secondo Andiamo in pubblicità Noi abbiamo scritto questo Qui c'è scritto bullismo Ma in verità Potremmo tranquillamente Anche coprirlo E dettare queste regole Ai genitori Che loro le possano scrivere Sui muri di casa E potessero condividere con i figli Rispetto Ascolto Condivisione Parlare Leggere Educazione finanziaria Ed empatia Ci vediamo tra poco Pubblicità E ritorniamo da qui Vivere meglio Ecco Noi siamo qua Noi siamo qua Di alloghiamo Parliamo Perché stiamo cercando Appunto di trovare Un sistema Per riuscire veramente A vivere meglio Anche in famiglia Ma a proposito di famiglia A proposito di sport Abbiamo la nostra Stefania Che un mese fa Ricordate Era venuta qui Con noi in studio Aveva portato Questa signora Che è una neomamma Quindi le facciamo I complimenti Che è nata questa bimba Due mesi fa Ormai sono due mesi Giusto? Due mesi fa È nata la bambina No Quattro Quattro mesi Sono già passati quattro Beh uno l'abbiamo fatto insieme Ed era venuta qui E avevamo lanciato Questa challenge Queste challenge strane Spiegami come funzionano Queste challenge Che voi conoscete in palestra Non so Spiegami un po' Che sono migliorate No ma adesso divertiamo Lo facciamo perché Divertente e stimolante Eh ma cos'è Cosa vuol dire Challenge Allora È una sfida Sfida con se stessa Quindi abbiamo fatto In realtà 27 giorni Dovevano essere 28 Ma poi abbiamo iniziato Il giorno dopo la trasmissione E abbiamo fatto allenamento Seguita da me Insomma si è rimessa In gioco totalmente L'ho vista praticamente Ho visto più lei Che la mia famiglia Questo mese E niente Abbiamo fatto allenamento insieme Abbiamo fatto E quanti giorni si è allenata Alla settimana? Si è allenata quattro volte Ah cipicchia Cazzo Abbiamo suddiviso un po' Perché avendo la bambina Non potevamo fare sessioni lunghe Eh ma quattro è tanto però Qualche volta è venuta con la bimba Carinissima La bambina è stata Ha vinto lei questo mese Abbiamo le foto Mi sembra Stiamo facendo vedere le foto Vero di com'era Ecco lì Quindi Praticamente un mese fa Quando noi L'abbiamo vista Era come nella foto di sinistra E adesso come nella foto di destra Brava Anch'io voglio il challenge Allora ci facciamo Vi organizzate Facciamo il challenge Con la Ramagoni Tra un mese Tra un mese tornerai qua da noi E vedremo Senza foto Quattro volte la settimana E andrà da lei Però Marco è senza foto Vi prego No no Le foto Va bene Sì però con la mutanda diversa Perché Allora Facciamo entrare la nostra neomamma Guardate che bella Laura Vieni Laura Vieni da questa parte Ti facciamo l'applauso No no Devi spostare un po' più di qua Perché c'ho una telecamera Che mi copo A parte che se non mi vedete Fa niente Mi sentite L'importante è questo Complimenti Come è stata Laura Come è stata questo mese Spiegacelo Secondo me è bellissimo Perché Comunque è faticoso Sì però Lei è una persona Che ti mette Molta grinta Energia E quindi A me è piaciuto E mi è passato Velocissimamente Senti ma tu ce l'hai L'applicazione Del suo centro E com'è che si chiama Stefania Singliti Stefania Singliti Qual è l'applicazione Sì è un'applicazione La trovi dappertutto La trovi dappertutto E come funziona L'applicazione Cosa fai All'interno ci sono Tutti i servizi Dello studio Poi se ti registri Puoi avere offerte Insomma Quello che facciamo Le challenge Perché ogni tanto Ne faccio partire Una diversa Quindi c'è La chiamiamo Diamo dei nomi Inventati al momento Com'è che le abbiamo chiamate La mostruosa È quella che faceva Infatti Cioè quindi mi scrivo La mostruosa La mostruosa Fai Ti ammazzo No ok Allora io mi scrivo La mostruosa Cosa fai Tu scompari Con la mostruosa L'abbiamo fatta uscire Ad Halloween Qualche anno fa Quindi l'abbiamo chiamata così E sono allenamenti Belli forti Però fattibili No ma spiegati Quindi tu avrai Quando ti iscrivi Hai il tuo pacchettino Dove hai tutte le linee guida Generali E hai l'allenamento Con i miei video Con gli esercizi eseguiti da me La scheda Quindi io li guardo E imparo Puoi allenarti a casa tua O in palestra O venire da me E poi io ogni Adesso ogni settimana Ogni dieci giorni Dipende poi dal programma Ti guardo Valutiamo i progressi E proseguiamo Bella questa cosa Faccio una challenge A me piace La mostruosa bacia Mi ha dato un po' di pancia Infatti io non riesco a chiudere Il gilet qua Volevo mettere la giacca A me era quella di quest'estate Una taglia e meno Allora mi stava stretta Non l'ho messa stasera E non è così No comunque Laura è stata bravissima Si è impegnata Infatti io La ringrazio Perché comunque Ha mantenuto Quello che io Perché comunque Il rischio era Trovare una persona Che poi non segue Quello che tu dici E beh certo Cosa fai Invece lei è stata Veramente brava E la parte più bella del mese È stata quando Ha fatto due giorni Di McDonald's Sushi Perché lei ha mangiato Sempre correttamente Quindi ha mangiato tutto In maniera equilibrata Non ha tolto nulla Quello non posso A un certo punto Gli ho detto Senti ma Voditi questo weekend Vai due giorni Proprio che mangi Quello che vuoi Ah proprio E quindi lei Si è guiduta Questi due giorni Poi è ritornata Sul binario Ci siamo allenate insieme È stato anche bello Perché poi i miei allenamenti Non perché li faccio io Ma secondo me Sono anche divertenti Passano E lei oggi Mi ha fatto un bel regalo Che non volevo Però è venuta in studio Un'ora prima Che io aprissi Tra l'altro Infatti poverina Ha aspettato uno E mi ha regalato Dei fiori Insomma Un pensiero E un biglietto bellissimo Dove lei mi ringrazia Ma sono io Che ringrazio lei Anche perché è una cosa Che ci tengo a dire Che veramente Ero Dopo che uno partorisce Ero in un momento Un po' Critico Bene Però Molto impegnato E ho detto Ma chissà se ce la farò E con lei Sono riuscita Perché veramente Il bello è Star bene Allenandosi Ma mentalmente Quindi lei riesce A trasmettere Questo Allora Per risolvere Tutti i problemi Men sano Incorporo e sano Stefania Visto che abbiamo Visto che Visto che Chiaramente Visto che diamo la colpa I ragazzi In verità la colpa Mi hanno specificato Ben stasera Proprio Distinto bene Questa cosa E dei genitori Mandiamo i genitori Tutti in palestra Da Stefania Va bene Stefania Sei contenta Domani vi aspegno Allora Mi raccomando Scaricate L'applicazione Cercate di andare A capire un po' Come lavora Appunto Stefania Ma voi non sapete anche Che Voi non lo sapete Che Stefania È anche una bravissima cantante Anzi forse È quasi più brava a cantare Pensa un po' Allora come sei brava È vero È la mia passione L'altro giorno L'altra settimana Stima scorsa Venerdì Ha fatto un concerto C'era tutto esaurito Non sono potuto riuscire A entrare a vederla Perché c'era tutto pieno Ecco Sì quella è la mia passione Verrai qua a cantare Se non avessi il canto Non Io senza la musica Non posso vivere Il mio gruppo Per me La mia famiglia Infatti li saluto Se mi stanno guardando Per me veramente Sono la seconda famiglia E il mio gruppo Siamo proprio Ci vogliamo tanto bene Ci divertiamo Come si chiama il gruppo? Rumors Rumors Grandi rumors Pronto Abbiamo una telefonata Pronto? Buonasera Buonasera Chi parla? Sono Sono un vostro Diciamo Aspettatore Che seguo spesso Telenova Sì E questa sera Mi ha colpito molto Soprattutto La Lara Comi Lara Magoni Lara Magoni Scusi Sono un po' Emozionato Ma perché È uscita Con delle espressioni Giustissime Che da politici Non si sentono Di solito Cioè I politici Di solito Fanno Fanno Diciamo Dicono Le solite cose Invece Quello che ha detto Lara Magoni Mi sembra Molto importante E volevo Chiederle Appunto Visto che Lei ha sottolineato Che sono i genitori Molto spesso La causa Dei malesseri Dei figli Le chiedevo Ma secondo lei Come si fanno Ad aiutare Questi genitori Perché questo Forse È anche qualcosa Di più Importante Che ci stiamo facendo Anche noi Ringrazio Complimenti Per la trasmissione Grazie Grazie Per il suo contatto Grazie mille Avevamo proposto Già questo Però Questa domanda Diretta In effetti Posso Certo devi Ringrazio questo signore Che ha posto Comunque una domanda Molto importante Io ho premesso Che non sono un genitore E spesso Mi metto nei panni Di chi È genitore Di quei ragazzi Ragazzi un po' scombinate Delle quali mi occupo E poi Spesso Diciamo Molto spesso In quelle famiglie Manca il dialogo Manca l'apprezzamento Verso il proprio figlio E figlia Manca Quella capacità Di trasmettere Ai propri figli Che esistono Dei sogni Nella vita Che ci si può alzare La mattina Pensando comunque Di avere un percorso Di pensare comunque A un obiettivo Ogni Ogni persona Ogni creatura Ha un qualcosa Come lei adesso Insegna Nel senso Fa scienze motorie Ma canta Cioè ogni creatura Lei ha un percorso Il presidente Un altro Ognuno di noi Ha un percorso E secondo me Attraverso l'ascolto Attraverso la capacità Di prendere per mano I nostri figli Li possiamo aiutare Cristina diceva Che spesso I nostri figli Li lasciamo Con il telefono in mano Io vi posso garantire Che è una costante Perché la domenica Servo a tavola Nell'hotel Ristorante Della mia famiglia E proprio domenica Ho servito Una bella famiglia Una bella coppia Con due bambini Molto belli Ma proprio bambini Erano Perché mi hanno chiesto Due seggioloni Erano fermi Immobili Perché vanno davanti Il cellulare E io questa cosa Ho pensato Ma forse Avrei preferito Che questi bambini Fossero quei bambini Che io magari detesto Che mi corrono in mezzo I gambe Mentre servo a tavola Che poi dico Porca miseria Non riesco a tenersi A tavola Però ho provato Lì un po' Di compassione Per questi bimbi Davanti al cellulare A pochi anni di vita Sono piccole cose Ripeto Magari io sarei stata Una pessima mamma E si può anche essere Pessime mamme O pessime papà Ma nel momento In cui i nostri figli O figlia Cadono per strada Si fanno male Incepono in un percorso difficile Siamo ancora noi Responsabili Andarceli a prendere Come sta insegnando L'ultimo evento grave Dove il padre Non tanzi il figlio Abbia fatto una cosa Di una cosa Ghiacciante Terribile Questo padre ha detto Voglio vedere mio figlio Cioè Questa ci sta insegnando Una cosa importante Che qualsiasi padre Madre Poi a un certo punto Della vita Si capisce Di essere comunque Responsabile In parte Di un percorso Nel quale Quella creatura Si è incanalata Certo Essere genitori Come ho detto prima Lo ribadisco Perché non vorrei Essersi insultata Per quello È sicuramente Molto complesso E molto difficile E io penso Che la cosa più importante Ovunque noi siamo È chiedere aiuto La capacità Di chiedere aiuto Quando non siamo All'altezza Di essere Noi operativi Per farlo E le persone Però chiedono aiuto Le persone chiedono aiuto Sandro Ma Diciamo che Noi siamo Un po' avvantaggiati Perché nello sport Riusciamo A avere contatti Anche con i genitori Perché ovviamente Avendo ragazzi Soprattutto ragazzi Minorenni Eccetera I genitori comunque Sono importanti E ce ne sono tantissimi Che Con i quali abbiamo Colloqui O abbiamo La possibilità Di capire Eventuali problemi Che possono avere i ragazzi Perché noi Lo possiamo vedere Ma meglio ancora Lo vedono i genitori Perché il ragazzo C'erano tutti i giorni A casa E devo dire Che tante volte Si mettono anche Loro stessi In discussione Grazie al fatto Che comunque I ragazzi con noi Sono in gruppo Si Hanno Direttori sportivi Che Capiscono Certe situazioni E cercano In tutti i modi Di risolverle Attraverso lo sport Perché noi Facciamo questo Ma grazie anche All'appoggio Dei genitori Sono piccole cose Che cerchiamo di fare A volte si riesce A volte no Perché nella bacchetta magica Non ce l'ha nessuno Però secondo me Sono cose importanti Perché se ognuno Facesse qualcosa di piccolo Noi quattro Facessimo qualcosa di piccolo Cosa che stiamo facendo Per i ragazzi Per i giovani Dovremmo amplificarla Questa cosa Per riuscire a cercare Di rimediare In situazioni Che poi diventano Bruttissime Come abbiamo visto Come vediamo tutti i giorni Perché anche quelle Situazioni Come diceva anche lei Nelle quali Non si dà notizia Sono situazioni brutte Lo stesso Nelle stesse condizioni Però le notizie Tutte le giornali Magari non ci sono Tutti i giorni Ci sono situazioni brutte Noi che viviamo Nello sport Dobbiamo essere In grado Di capire Quando eventuali problemi Possono essere risolti Diciamo che abbiamo Tre canali di comunicazione Con i ragazzi A scuola In famiglia Chiaramente E dobbiamo Per dire questo terzo canale Che è quello dello sport Lo sport fa bene Non solamente Perché è men sana E il corpo è sana Ma fa Ma fa Creare Fa venire in mente Dei sogni pazzeschi Crea veramente Aiuta l'immaginazione E dopo la pubblicità Continueremo appunto Di parlare di sogni Nello sport Vivere meglio Aiutiamo le persone Vivere meglio Ascoltate i nostri consigli Perché riusciremo A fare qualche cosa Adesso non so Ancora per quante puntate Ambra per quante puntate Andremo ancora avanti Con Vivere meglio Due, trecento No? Ecco Poi il direttore Lo dico io Perché non è che In dieci puntate Possiamo risolvere i problemi Quindi Seguitici sempre Il martedì Quando non c'è la Champions League Se vedete questo segnale Che c'è Messo qua Dov'è che si qua Questo cosino Lo vedete Come si chiama Il QR code Ecco Voi inquadrate Con il vostro telefonino Il QR code E scaricherete così L'applicazione di Telenova Perché chi Non ci può vedere Perché non è Lombardia Con l'applicazione Come l'applicazione Di Stefania Singlittico Potrete vederci Seguirci in diretta E comunque anche on demand Con tutti i vari programmi Di Telenova Bene Allora A questo punto Parliamo di cose Mi spaventi Io ho visto E adesso dalla regia Io chiederò Di mandare queste fotografie Come ad esempio Questa Dote Sport 2023 2 milioni Qui si parla di soldi Qui il colpevole Vi ha detto stampa Che si chiama Luca Cianflone Dovrebbe pubblicare meno cose Così almeno io non divento pazza Comunque procediamo Cosa vuoi sapere Marco? Dote Sport 2023 Approvati i criteri Regione Lombardia Della segnazione Della Dote Sport 2023 Cosa significa? Significa che Regione Lombardia È l'unica regione in Italia Che mette in campo C'è Dote Scuola Questa Dote Sport Che dà un contributo Per chi ha un'ese inferiore A 15 mila euro Per poter praticare sport Contributo alla famiglia Sì Alla famiglia Per praticare sport Quindi è una misura Che ritengo interessante Perché se quando ero bambina io Lo sport era per tutti i bambini Poveri o ricchi che fossero Tutti facevamo i giochi della gioventù Se vi ricordate Sì adesso non ci sono più gioventù E purtroppo lo sport Oggi da oltre 20 anni Secondo me È diventato una peculiarità Per le famiglie Che hanno due soldini in più Per poterli far praticare sport E questa cosa è inaccettabile Perché se lo sport è inclusione Dobbiamo assolutamente pensare Di poterlo far veramente Farlo fare a tutti Per prevenire quello che poi conosciamo Ecco ma questa Dote Sport 2023 Nello specifico come funziona? Si fa una richiesta Si fa una richiesta Si fa una richiesta In modo che aiutiamo anche le persone da casa Tutti gli estremi sono scritti Sulla mia pagina Facebook e Instagram Lara Magoni Trovate queste informazioni Naturalmente c'è un link Dove si apre E voi vi iscrivete Mettendo il vostro IVE ISE E da lì avrete questa percentuale di euro Per poter comprare Ma e proprio ricevono i soldi direttamente O lo escano dai tassi? No, vengono rimborsati Rimborsati? Loro si pagano per dire il percorso di E vengono rimborsati Ok Ecco ma invece qualche cosa Che c'è per aiutare Chi si prodiga A realizzare progetti sportivi Come le associazioni sportive Come la squadra di Come la squadra di esempio ciclistica Del nostro presidente Alessandro Carri Allora per quanto riguarda Le società sportive È un tasto abbastanza complicato Nel senso che Regione Lombardia È una regione Che è altamente sportiva Abbiamo oltre 2 milioni 200 mila Lombardi Tesserati È una società sportiva Quindi abbiamo un 20% Che hanno una tessera Comunque sportiva E questa è tanta roba Vuol dire che sono sportivi Di qualsiasi genere di sport Abbiamo 25 mila Società sportive Una è la sua 25 mila E la regione Lombardia Non può avere i soldi Per sostenere Perché anche se fosse 1000 euro Sono già 25 milioni Cioè come è possibile Arrivare a sostenere tutti E con 1000 euro Non fai poco niente Quindi noi mettiamo in campo Dei bandi diversi Magari di sostegno Alle manifestazioni sportive Esempio Si organizzano un evento Di una portata Di una portata Importante Dove coinvolgono Tanti atleti Che coinvolgono Il territorio Possono beneficiare Di un bando Manifestazioni sportive Che finanzia Fino a 20 mila euro Poi abbiamo Il bando Grandi Eventi Dove è lì Aspetta Ok Dove vai? Ogni anno La tua squadra Organizza Più Di un evento Di questo genere Ecco domanda Potrebbe essere Presidente Lei Faccio il PR Utilizza 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 Strumenti Di Regione Lombardia Per trovare Dei finanziamenti Per le sue competizioni Noi utilizziamo Gli sponsor Che sono appassionati Di questo sport E sono gli appassionati Perché purtroppo In questo tipo di sport In categorie inferiori La visibilità A livello Sponsori Negli sponsor Non è altissima Non è come Essere In serie A Del calcio Per dire O nei professionisti Però abbiamo Tanti appassionati Che per fortuna Ci danno la mano Io in prima persona Con l'azienda che ho Sono quello che ci mette Di più Diciamo Però Da questo punto di vista È vero Non abbiamo Appoggi Non sono appoggi La domanda un'altra Presidente Io le ho chiesto Se lei come società Utilizza strumenti regionali Regione Lombardia Rappresenta Il popolo lombardo Utilizza Soldi pubblici Dei lombardi Che poi In varie direzioni Oggi nello sport Ho i miei soldini Che vado a mettere In alcuni Capitoli di spesa Per finanziare cose Lei non ha mai partecipato A un bando Perfetto Allora lei Non deve seguire La Ramagoni Ma lei segue Regione Lombardia Sulla pagina Ok Impariamo Come lo fa lui Sulla pagina Dei bandi Questo è aperto Quindi a tutti Gli ascoltatori Degli spettatori Nel senso che Regione Lombardia Veramente Mette in campo Le risorse Dei cittadini Vengono messe in campo A favore dei lombardi E sono tante Quindi le situazioni Uno magari dice A una start up Va a cercare Magari c'è uno strumento In quel momento Operativo In tal senso Ci sono tante iniziative E tante volte Devo dire la verità Tanti lombardi Non sanno Che siamo Grazie ai lombardi Una regione Una vera locomotiva Economica Ma anche Che genera Economia Sui cittadini Per ogni esigenza Devo dire la verità Poi magari In quel momento Non ci è aperta Quella misura Specifica Ma diciamo Che c'è un turno Overe bene o male Le risorse Arrivano un po' ovunque Siamo qua stasera Per spalmare Le risorse Della regione Lombardia Su una palestra Su una società sportiva Di ragazzi A breve avremo Un bando Sulle infrastrutture Sportive Per cui le palestre Potranno parteciparvi Per cui diciamo Ecco però vedi Queste qui sono cose Che le persone Però vedi Da quanti anni Hai detto che sei Vuol dire Che al presidente Non gli servono I soldini No 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 Non credo Questo non ci voglio credere Una cosa importante Devo dirla però Noi siamo aiutati Anche dal comune Del nostro Di Wurter Sizio Ogni anno Il comune di Wurter Sizio Ha tantissime società Ha una percentuale Di soldi Che può distribuire Alle varie società E in funzione Di quello che ha Si dividono I vari soldi Quando organizziamo La gara a busto Ci danno dei contributi Per poter fare in modo Che questa gara Possa essere organizzata Nei modi Ecco ma possono essere Cumulabili Busto Sizio è un comune Eccellente A marzo organizzeranno Un torneo internazionale Di pugilato È vero Che è l'ultima competizione Che darà i pass olimpici Per le olimpiadi Parigi 2024 Per cui Busto Sizio Devo dire che Vicino allo sport È un'amministrazione Che sostiene lo sport In vero senso della parola Ecco ma loro che hanno avuto Ad esempio Questo aiuto dal comune Possono comunque Chiedere anche alla regione Ovvio Ecco quindi cioè Bisogna Anche da quel punto di vista Io so anche Perché si dice Si sente dire Che ci sono un sacco Però di fondi europei Anche adesso Col PNRR Che non Vengono distribuiti Quindi bisognerebbe Un po' insegnare Anche alle persone comuni A poter attingere No? Questi con un mezzo Un po' più diretto No? Certo Allora devo dire la verità Che ci sono quelli Che non mancano mai Esempio Da voi Sui tre valli Non facciamo nomi Delle società Però insomma Una delle regole Da aggiungere A queste qua Perché comunque Non lo so Le persone comuni Pensano Ah no Ma figurati io Se riuscirò A prendere qualche cosa Perché poi Nella mente umana C'è l'ottimista C'è quello che sogna Però c'è anche quello Che si rassegna Dice ma va Va sempre i soliti Perché in effetti È vero poi Ci sono le solite Grosse aziende Che ricevono Contributi statali Da sempre Da tanto tempo Persone che lo fanno Capito Aziende che lo fanno Perché sistematicamente Lo fanno in quel modo E pochi possono Attigere Perché sono un pochettino Anche demoralizzati Per esempio Mi ha messo 720 mila euro Sugli oratori Di regione Lombardia Il progetto Si chiama Giovani in cammino Hanno sviluppato 120 progetti E sono sempre Comunque Progetti di inclusione Di aggregazione Dei nostri giovani E quando parlo Di inclusione E aggregazione Parlo anche Non solo Dei nostri ragazzi Che inciampano Per la strada Ma anche Per ragazzi Ragazze con disabilità Allora Questa sera Vivere meglio Stiamo imparando Che Non è Come lo percepiamo Ma la situazione È reale Come ce la racconta Non una persona Che vive di politica Ma una persona Che ha vissuto E vive tuttora Di sport Lara Magoni Facciamo un po' Di pubblicità Ci vediamo Tra pochissimi Vivere meglio Allora Stiamo parlando Di concorsi Di bandi E proprio domani Succede qualcosa Di molto importante Ancora io Sì è certo Perché possiamo parlare Di questo bando Che parte domani Queste belle ragazze Con le quali sono entrate Le belle ragazze Le invitiamo un'altra volta Di nuovo Non abbiamo problemi A Telenova Possiamo fare così Ma abbiamo degli argomenti Siamo solo belle Non parliamo di noi Siete brave Belle Parlate bene Lavorate Aiutate le persone A vivere meglio E però Noi abbiamo L'onore Di avere qui Lara Magoni Che ci deve dire Che domani Parti un bando importantissimo Allora Vabbè Io amo Quello che sto facendo Non so se si chiama Politica La politica per me È la polis Per la gente Per il territorio Il mio sogno È siccome si parla Di Olimpiadi 2026 Milano-Cortina Non dimentichiamoci Che si chiamano Olimpiadi e Paralimpiadi E io nella mia vita Ho fatto tre Olimpiadi Da campionesse Cinque mondiali E quando ho fatto Le Olimpiadi A Alberville Era la prima volta Che erano abbinate Le Olimpiadi Le Paralimpiadi Quindi poco tempo fa Chiese al mio direttore generale Simone Rasetti Che aveva un sogno Avere delle risorse Per poter garantire Ai nostri figli e figlie Che nascono O diventano Disabili per un percorso Di vita o di malattia Che anziché fare I bruttoni a troccoli In classe Potessero attivarsi Facendo sport Con un ausilio A un ausilio Che li accompagnasse Sugli sci Col guscio Con lo slittino Per lo sci nordico Con l'hand bike Con l'assidio a rotelle Per giocare A palla canestra A palla vola A giocare a tennis Da domani Parta un bando Da un milione di euro Che andrà a sostenere Praticamente La pratica sportiva O meglio Se chi di voi Ha una creatura Che va a scuola Ma comunque isolata Per la sua disabilità Può partecipare A questo bando Che con il quale Potrà comprare Con soldi pubblici Un ausilio Per una persona Amputata O una carrozzina Un sitting Per poter praticare sport Perché io voglio Che tutti i bambini Possano veramente Affiancare I compagni di scuola Per poter giocare E divertirsi E chissà Magari Oggi che hanno dieci anni Possono avvicinarsi Attraverso questo bando Allo sport Comprando quindi Una carrozzina O l'ausilio Che necessitano Possano diventare Fra cinque o sei anni Otto anni Possibili piccoli Campioni paralimpici Regione Lombardia Andiamo sul sito E andiamo a cercare Il bando giusto Perché comunque È molto chiaro Regione Lombardia Bandi online Protesi ausili Per lo sport In questo caso Hai fatto un nome Di una località Albertville E torniamo al discorso iniziale Mi viene in mente Anche Alberto Tomba Che era con te In quella stagione Ieri con Deborah Abbiamo riso Perché l'hanno giustamente Compagnoni Scusate Si è fatta Tre medaglie olimpiche Dove ho partecipato E allora ho fatto Ridere tutti Oggi sono in politica E dico che c'è il portaborse Io però per 12 anni Mi sono fatta Il portamedaglie Della compagnone Ero già abituata Però Altra domanda Che mi piacerebbe fare Vediamo che c'è Alberto Tomba Vediamo che c'è Valentino Rossi Uno sciava E ha creato un movimento Sono arrivati veramente Cioè Il turismo Proprio Ne ha giocato tantissimo Valentino Rossi Con le moto Non lo so Però è stato un grande campione Adesso Yannick Sinner Però noi abbiamo delle campionesse Di sci ad esempio In questo periodo Come Sofia Goggia Come Labrignone Labrignone E tante altre Labrignone Tante ragazze Per quale motivo Sono campionesse del mondo Ma non sono diventati Così eclatanti Di questi risultati Come lo sono stati Invece per i pari Ma di genere maschile Allora Io ho una visione Che potrebbe essere smentita Da una figura Come Cristina Perché Appunto È una donna social È una donna televisiva Io penso Assinio Io non seguo tantissimo Il tennis Lo sto seguendo Perché questo ragazzo Ha avuto una capacità empatica Di trasmettere delle cose Che ritengo Oggi In un momento In una società così Veloce Dinamica Ha riuscito a fermare il tempo E ha detto Ragazzi Mi sveglio la mattina E lavoro 6-8 ore al giorno Perché voglio vincere È un messaggio In quelle poche parole È come quando Lei con la sua atleta Questa mamma Che la mamma ha detto Ho avuto un momento Non l'ha detto Però magari Con la forma leggera Di depressione Post parto Mi sembra che ne parli Non sono mamma Non so dirvelo La stessa signora La stessa mamma Ha detto Grazie a Stefania Ho ritrovato Quella carica Infatti è una donna serena Lo sport Protagonista Del vivere meglio Men sano In corpo Quindi le famiglie Mi raccomando Le famiglie Rispetto Ascolto Io questo cartello L'ho messo Ma in verità Ero indeciso Stasera Parlavo con il riso Dico Mettiamo la nostra lavagna Ma sì Noi mettiamola Perché in effetti Però queste regole Bisogna seguirle tutte In qualsiasi caso Perché dobbiamo Riprendere a sognare Come sognano Le persone Quando guardano Programmi Come uomini e donne Come quando hanno guardato Te Raccontaci Cosa è successo Uomini e donne E a Tentation Island Ma tu dici Voglio saperlo Voglio saperlo Perché comunque Sono programmi Che hanno preso Il posto Di altri Una volta C'erano programmi Di un certo genere E poi sono arrivati Quelli Ma il pubblico Che guarda Uomini e donne Quanti anni ha Ma sono tante ragazzine E tante donne Magari più casalinghe Adulte Quindi è un contrapposto Un pubblico proprio vario Misto Ma di età Sì 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 Le ragazzine 15-20 anni E la donna di 50 anni Sì perché sono milioni di persone I miei follower sono quelli Sono le ragazzine O donne un po' più adulte Prettamente donne Io ho quasi l'80% Di follower donne A che ora A che ora vai in onda Il pomeriggio Va in onda Il pomeriggio Alle 14.45 Su canale 5 Quindi ovviamente È una rete seguitissima Ma ha tante repliche C'era la sera In altri canali Poi la notte Insomma Ma tu quando sei andata lì Ti è cambiato qualcosa Allora Io sono andata lì In un momento Non seguivo il programma Perché comunque Lavoravo E ho sempre lavorato Quindi non sarei mai riuscita A guardarlo E sono arrivata lì Un po' per caso Perché ero stata anche Fidanzata con un ex Ragazzo che poi È stato tronista Ma quando l'ho stata fidanzata Io con lui Era un ragazzo normalissimo Quindi probabilmente Sono venuta a sapere Di me Della mia esistenza Mi hanno poi contattato Ho fatto un colloquio E ho partecipato Nel 2018 Ho partecipato Perché non stavo lavorando In quel momento Anche perché non è facile Lavorando conciliare E ho detto Ma io non esco mai Lavoro tantissimo Effettivamente Quando esco Esco con qualche mio amico Ma un uomo Non si approccia Cioè non si avvicina Perché mi vede già Con figure maschili Che poi sono i miei amici Io che sono una presenza Forse che intimorisce un po' Anche Quindi l'uomo fa fatica Ad avvicinarsi E ho detto Io non riesco Perché intimorisce un po' Oggi come oggi Gli uomini hanno paura Delle donne Ma perché cosa? Funziona così Perché se ti morisci tu E cosa posso fare? Dovremmo dedicare Una puntata al bello Alla bellezza E alla televisione Guarda Mi è capitato Di ragazzi Con cui poi Mi sono sentita Approciata No guarda Io pensavo Che tu non mi calcolassi Minimamente Ma perché? Scusami Cioè che cosa ho di strano Perché una come te Una come te come? Sono una ragazza Come tutte le altre Ma questa cosa L'ho sentita già dire Per ecche volte Mi è capitato spessissimo Cari ragazzi Devo dirvi Che è finito il tempo Bisogna fare un altro blocco Di un altro quarto d'ora Chiedo Non si può Dobbiamo salutare Il 57 Quindi mancano 10 secondi Non lo trovavo È finita la puntata Vi rinvito volentieri Se ci faranno fare altre puntate Più avanti Di vivere meglio Perché queste regole Dobbiamo iniziare A seguirle nelle famiglie Ringraziamo Cristina Grazie a te In Corvaia Ringraziamo Alessandro Cardi Presidente della Bustese Ologna Società ciclistica Naturalmente La nostra sottosegretaria La regione Lombrette per giovani E sport Ti adoro Marco La fantastica Lara Magoni E tutti i telespettatori Grazie Se è troppo buono C'è i drividi No perché E poi naturalmente Stefania Siglitico Che con le sue challenge E con la sua applicazione Vi farà vivere meglio Grazie Ci vediamo la prossima volta Ciao Ciao